Costantino Costantino era un imperatore romano, che restò al potere dal 306 al 337 d.C. Egli riverse un ruolo fondamentale nella storia dell'impero romano per almeno tre ragioni, perché ha rivoluzionato il piano politico trasformando il sistema fallimentare della tetarchia in una monarchia a tutti gli effetti. Inoltre, con Costantino cambia in maniera radicale l'atteggiamento dello Stato nei confronti del cristianesimo. Costantino capisce che i cristiani sono la maggioranza nella popolazione dell'impero e che il cristianesimo poteva rappresentare un fattore di coesione in un momento di crisi. Per questo, nel 313 d.C. emana l'editto di Milano, con il quale assicura la libertà di culto a tutte le religioni, ponendo fine alle persecuzioni. Pur garantendo la libertà di culto, Costantino privilegia il cristianesimo con una serie di iniziative a favore della Chiesa. Infine, Costantino è una figura chiave per una terza ragione. Egli trasferisce la capitale dell'impero da Roma a Costantinopoli, nella parte orientale dell'impero. Spostando la capitale da Roma a Bisanzio, Costantino ha diviso ancora di più l'impero, che si era impegnato tanto a consolidare, spostando tutto il peso politico in Oriente. Costantino, da molti storici, è considerato una figura ambigua. Per quali ragioni? Pur favorendo il cristianesimo, Costantino esercita la carica di Pontefice Massimo, una carica religiosa, e stando alle fonti, solo il punto di morte si converte nella nuova religione. In secondo luogo, fa costruire la Basilica di San Pietro, facendo diventare Roma la capitale cristiana del mondo antico, ma sposta la vera capitale a Costantinopoli. Infine, cerchi in ogni modo di garantire stabilità e unità all'impero, affermando che questo è il compito affidato gli da Dio, ma spostando la capitale nella parte orientale, di fatto ne avvia la divisione in due tronconi.